Che io in quest'Aula, tantissime volte, sia per interventi nostri, dei 5 Stelle, dei colleghi di opposizione, sento l'indignazione che si alza dai banchi della maggioranza per una parola colorita utilizzato verso uno o l'altro esporente di governo. Mi sorprende però che la stessa indignazione non la vedo sollevata da parte dei colleghi di maggioranza quando si approvano leggi vergognose o si bloccano norme che vanno a difendere il cittadino comune. E poi sono gli stessi che quando vanno in televisione vanno a dire no, noi le autoblue tagliamo così. Peccato che quando si offende con cose concrete, ovvero le leggi, il cittadino anche nel suo diritto di sicurezza, ciò non sollevi l'indignazione dei colleghi ma quando una parola colorita verso il ministro Alfano, oddio, apriti il cielo. Non funziona così, siamo qui a rappresentare il popolo, non il ministro Alfano. Non siamo qui a fare il la che di qualche rappresentante del governo ma a rappresentare il popolo di questo Paese. Grazie.